Ascoltiamo insieme l'intervista al presidente Antonio Dell'Aquila. Siamo con il presidente della SD Sport Lucera Antonio Dell'Aquila, in realtà subentrato a 5 giornate dalla fine del campionato di seconda categoria dello Sport Lucera. Uno Sport Lucera che purtroppo ha perso nello spareggio dei play-out contro l'Atletico Foggia e dunque insomma molta dilusione per questo. Partiamo da qui. Beh sì, diciamo il campo non ci ha certamente dato ragione e ne prendiamo atto. Innanzitutto ci dispiace di questo e secondo me la prima cosa da fare è chiedere anche scusa ai nostri tifosi. Però ecco ci sono tutte le premesse per ripensare a fare una bella stagione partendo da dove partiremo perché non è detto che ritorniamo in terza categoria. Ma naturalmente con l'obiettivo di ricostruire innanzitutto una società, un'idea di sport e dare un contributo significativo alla squadra della città. Anche perché diciamo abbiamo molti tifosi che hanno una vera passione e noi non possiamo tradirli. Ecco Presidente, come dicevo appunto a cinque giornate dalla fine e subentrato sicuramente c'è una programmazione che prevede una sorta di nuova mentalità insomma da infondere nel pubblico sportivo lucerino e tornare a guardare lo sport lucera come la squadra di tutta la città. Sì, intanto io dico che dobbiamo rilanciare il movimento sportivo più in generale nella nostra città. Noi certamente ci occupiamo del calcio e proveremo a dare una mano a mettere insieme anche altre cose. Però è chiaro che siamo un po' all'anno zero perché abbiamo diversi problemi sia sulle strutture ma anche come dicevo prima sul bisogno di rifondare un nuovo, non solo gruppo dirigente partendo da tante persone che generosamente in questi anni hanno dato una mano. Ma anche diciamo pensando per una volta che in una fase come questa dove c'è sofferenza sociale e tanto bisogno da parte di molti, pensare a spese folli, investimenti infiniti non ha nessun senso. Sarebbe non solo uno schiaffo alla povertà ma anche affrontare le cose non nella maniera giusta. Cioè lo sport ha innanzitutto una funzione educativa e deve avere un ruolo sociale. Quindi dobbiamo fare buon calcio, valorizzare i talenti che noi abbiamo in città che ci potrebbero portare molto lontano e su questo noi dobbiamo essere molto concreti. Cioè noi dobbiamo costruire uno sport valorizzando i giovani e i ragazzi che hanno passione sportiva. Ecco Presidente c'è una questione molto importante che è quella che riguarda il campo sportivo comunale. Cosa possiamo dire a riguardo? Beh questa è una grossa questione. Io credo che a breve l'amministrazione si prodicherà anche su questa cosa. Però abbiamo un problema del campo, della sua fruibilità. A breve credo che ci sarà un bando per assegnarlo a qualcuno. Io credo che come squadra della città noi certamente proveremo a esserci senza naturalmente riempirci né di debiti né di problemi. Il campo è un bene pubblico, è un bene di tutti. Quindi noi ci approcciamo adesso sapendo che esso va rispettato, va utilizzato conformemente. Però è chiaro che lì ci sono delle questioni significative da risolvere. Io voglio ricordare solo una cosa. Io ho una grande passione sportiva, però sono stato convinto da molti tesserati, molti dirigenti della Lucera Calcio che avevano il timore che questa esperienza finisse e che soprattutto finisse in mani non lucerine. Per questo ci siamo sentiti chiamati in causa e abbiamo generosamente dato una mano. però è chiaro che la questione del campo è fondamentale. Per la squadra della città avere il campo in utilizzo sarebbe veramente una cosa particolare che noi dobbiamo pagare l'affitto a terzi. E soprattutto vorrei sottolineare che ci sono soggetti che non sono nemmeno del territorio che potrebbero essere interessati al campo e francamente io non credo che noi in giro potremmo consentire una cosa del genere. Perché il Lucera Calcio oggi si chiama ASD Sport Lucera ma questo è un patrimonio di decine d'anni indisponibile. non è che io me lo porto a casa in Lucera Calcio, domani sarà di qualcun altro. Abbiamo dei titoli, dei valori, tanti calciatori, tanti sportivi che nel tempo si sono sacrificati per questa maglia, che hanno preso botte, che hanno investito risorse. Ecco, non credo che debba fare la fine di essere gestita da terzi. Non ci sarebbe quel feeling emozionale, emotivo con tutta questa tradizione. Ecco, Presidente, infatti parole molto importanti, è giusto dare le strutture alle associazioni, alle persone che si prodigano per lo sport lucerino e dare lo sport lucerino alla città di conseguenza. Quali sono i prossimi passi della nuova società dello Sport Lucera? Riorganizzare subito il gruppo dirigente, fare una squadra competitiva, valorizzare i nostri talenti, anche quelli che hanno, come dire, negli anni dato lustro non solo ai nostri colori, ma anche a altre squadre, e coniugare esperienze e novità e soprattutto fare un grande programma dove il nostro campo diventa il centro di un contenitore, diventa un contenitore culturale di sport, di iniziative e anche di contrasto al disagio sociale. Su questo credo che sicuramente avremo la condivisione di tutti gli attori che in questa comunità ancora ci credono. E questo, insomma, ai nostri telespettatori, diciamo che è importante il coinvolgimento degli appassionati, degli sportivi. Noi sappiamo che molti tifosi hanno paura nel senso affettivo perché hanno avuto molte delusioni. Lo sport è così, si vince, si perde, però è chiaro che oggi è compito nostro provare a riavvicinare le persone. Non è colpa del tifoso, degli altri, se oggi non viene al campo, non si interessa tantissimo. Speriamo che con le nostre iniziative, anche con i buoni risultati sul campo, ritorneranno a vedere il calcio, vedere la squadra e anche a divertirsi. Grazie al Presidente Antonio Dell'Aquila, in bocca al lupo, allo Sport Lucera, insomma, augurandoci che torni a brillare.